Konnichiwa cari amici vicini e lontani dicevano Arbore e Boncompagni fondatori sicuramente di un proto youtube via radio cari amici youtubers rieccoci con pokemon arts l'altra volta vi ho promesso di farvi vedere tutta la pagina della raccolta dei legami mentali e oggi ve la faccio vedere posso finalmente inserire questo legame mentale nuovo trovato nella busta di espansione legale mentale con tyranitar di cui l'altra volta avevamo trovato anche 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 mega tyranitar x tanto per ricordare la roba di qualità no quindi ecco la pagina legame mentale del uno dei miei album al quale vedi ci sono proprio tutti vedi no chi ogre agron al quale ne manca uno solo che aggiungeremo ben presto perché lo so l'ho già trovato vedete anche questo con la casa che bello no e ce li abbiamo tutti insomma apriamo un bel pacchettino insieme alla modica di 4 euro e 50 for euro 50 ciotto tacaine po expensive ma ne vale certamente la pena perché questa espansione spacca ecco qua vedete qui il foglio antichi origini con la spiega fatta da un buon copywriter no ti racconta tutto dentro un po di pubblicità abbastanza trash peccato volevo farmelo il tour ma alle olandia non sono proprio attratto anche perché comunque certo che è iniziato ad amare i pokemon ormai nel 95 no oggi quanti anni ha se giocava a 20 anni adesso un bel quarantenne si magari alle olandia ci va con i figli cosa che magari posso fare anch'io vediamo qui questo bel pacchetto ce lo apriamo bene no lo tagliamo lo apriamo un po qua dietro lo tagliamo con la forbice collezioniamo anche i pacchetti ti disegno abbastanza bello di questo packaging fondamentale per tutta la strategia marketing che sta dietro al mondo pokemon d'altronde stare 20 anni sulla cresta dell'onda è mica una roba da principianti l'altro pensavo arbore e buon compagni a cui i pokemon piacerebbero li ho citati all'inizio con il loro saluto chissà se li conoscono sono un po agé ebbè farglieli vedere vediamo un po cosa troviamo come vi dicevo come vi dicevo una clip fa come probabilmente tanti altri culega youtubers sono abbastanza incavolati sono tanti doppioni per esempio questo con b con b b ape e anche questo incai il base del pokemon seppia fantastico di cui vi ho fatto vedere la carta anche ex oddish 1 vediamo oddish com'è oddish è 1 di 98 vuol dire che è il primo quindi questo oddish ce l'hanno cacciato fuori nuovo nuovo questa ralz trovata e ritrovata no abbastanza bello disegno un po dark ma molto kawaii molto molto questo golurk trovato già cento volte con b addirittura un'altra volta ma questa volta foil oh è un robottone regirock bello questo non ce l'avevo raro per chi gioca probabilmente una carta potente piace molto esteticamente interessante no andiamo qua la bella lente vediamo un po il personaggio vediamo meglio e beh guardate insomma non scherzano niente coi disegni di tutto ciò che è robot mecca insomma se pixar ha celebrato la supremazia no del giappone con big hero 6 non so se molti di voi l'hanno visto no veramente un motivo ci sarà continuiamo vaporeon questo non ce l'avevo porigone 2 queste ne abbiamo trovate tantissime in biancarullo strumento pare che in questa serie ci siano tanti strumenti e poi l'immancabile abbastanza inutile qr code per l'espansione online carissimi vi saluto matanè alla prossima